Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Overwatch 2 Scusatemi, stavo controllando una cosa Comunque, in questo video proveremo Zarya Eccola qui Andremo con prima di tutto la skin di Overwatch 2 Ok, leggermente cambiata, le sono cresciute i capelli Ok, andiamo E come sempre leggiamo le abilità Le avevo usate un paio di volte lei Durante Overwatch 1 Però non me la ricordo molto bene Allora, arma, raggio e corta gittata Scaglia, una granata e energia Ok, ok Poi, bomba gravitatonica, questa me la ricordo Bomba gravitazionale che attira nemici Poi, crea una barriera protettiva personale Crea una barriera protettiva per un alleato con la E invece Ok, energia, danni assorbiti dalle barriere aumentano i danni infritti dal cannone a particelle Attenzione, ok Bene, abbastanza semplice come meccaniche Vediamo se sarà semplice anche da utilizzare questa bella Zarya Nel frattempo vi ricordo anche di lasciare un bel mi piace al video Di commentare e facendomi sapere cosa ne pensate di questo campione di Overwatch 2 E se avete dei consigli su come utilizzarlo al meglio Infine, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi caricamenti Ok Raga, i nostri support dove sono finiti Questa Zarya l'ho vista un bel po' di volte contro Ed è fortissima a fatto che un support stia dietro a curarla E a fatto che i miei danni non vanno in giro a caso ma stiano dietro di me Vediamo quanto tempo di ricarica ha la granata Penso sia questa No, non ha ricarica Ah, ho spreca delle munizioni Ok Questa è a corto raggio Quindi ci conviene usare la granata qui Forza, forza, forza Metto davanti io Ok, via Attenzione Attenzione C'è Genji qui sopra Però non ha un problema Finché continua a rimanere lassù Ottimo Vedete con un support che cura Questa Zarya è fortissima Aspettiamo che ritorno Con calma Cioè abbiamo un McCree che è andato da morire Molto probabilmente Ok attenzione attenzione Curatemi grazie Ottimo Buono Ah peccato È arrivata da dietro Sojourn e mi ha disintegrato Colpo del tasto destro Peccato peccato L'hanno preso all'89 Ok vediamo di tornarci subito Vediamo di tornarci subito Se riesco a dare lo scudo a lei Buono Ed ora anche la ultimate Andiamo di usarla appena arrivano eh Per disintegrarle Non sembrano arrivare Abbiamo vinto Buono Primo round preso Ha molto poco range Ok Niente male Secondo round Vai Un amico mi ha detto che ti sei arrugginito Gli te l'ha detto Tu non hai amici E infatti Stato ultra Richiamo La mia ultra si sta caricando Ok Il lavoro di una madre Non finisce mai Bellino la Cosa di Zarya Zarya volevo dire Non Zarya Andiamo Vamos Secondo round Come vedete appunto Zarya con la gente che la cura Tanca tantissimo Tanca davvero tanto Mi son messo davanti Ho tankato tutti i danni Di questo Rodog Dove è andata? Di qua? Eccola Ok è andata lì dietro Buono Dove sono tutti i nemici raga? Attenti eh Non morire Buono Ho parato un boccio di danni La mia ultra si sta caricando Fate le coppie Non vorrei 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 Se vuoi minoranza Alleta Ah si? Crepa Bravo Oh attenzione Erano tutti dietro di me Peccato Non l'avevo visto Comunque come danni Niente male Sono in linea comunque Con l'altro tank Ho mitigato molti più danni Di lui però E ovviamente Questo campione Non ha cure Quindi Inoltre a vedere il punteggio Lo scorda la cura Chi è tornato? Cioè Merzik L'ha risuscitato? Buono Ottimo 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 È davvero È davvero fastidiosa Zaria Da giocarci contro Si mette quello scudo E via Ti proteggo Ti proteggo Ciao Buono No Non potevo assorbire il danno Peccato Avevo già usato lo scudo Quanti hanno alzato I due tre? Però ho ucciso solo me Ok Noi comunque stiamo facendo punti Quindi GG Come vedete Zaria è molto Molto facile da usare Rispetto ad altri tank Che abbiamo usato precedentemente Per esempio Un fracking ball È molto più situazionale Molto più difficile Qua tu arrivi Metti gli scudi Ovviamente Si da adesso prima me Merzik E poi tutti gli altri Ah peccato Mi sa che hanno eliminato Anche i nostri supporti Però Dovremmo aver vinto Oh yes Quindi adesso ho fatto La play of the game Con quell'azione In cui sono andato A ammazzare tutti Vediamo eh Dai io incrocio le dita No Dai McCree Peccato Con una ultimate Hanno ammazzati tre Ok Va bene va bene Ti sta D'altronde le ultimate Fanno questo Ottimo Quindi Andiamo a fare subito Un'altra partita Sempre con Zaria Abbiamo trovato Un'altra partita Immediatamente E andiamo con Zaria Di nuovo Dobbiamo attaccare Zaria per attaccare Non dovrebbe essere niente male Cambiamo anche skin Già che ci siamo Andiamo con Polare Oh oh È diventata una eschimese È un po' Bagatina Questa skin Vedete qui sul collo È un po' Tutta compenetrata Peccato Ok E siamo pronti Siamo pronti per andare Vamos Vamos Aspettiamo questi 30 secondi Nel frattempo ragazzi Mentre aspettiamo questi 30 secondi Preparo una storia su Instagram E vi ricordo che Io sono anche su Instagram Trovate il mio link In descrizione E potete venire A confrontarvi Su serie tv Film Anime Eccetera eccetera Anche appena uscite Per esempio Ora sto preparando Un post su Rings of Power Che ho appena finito di vedere Ma non avrò finito Non avrò tempo di prepararlo Perché inizia la partita Vai 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 Allora daremo lo scuro Subito a lui Ecco fatto Ora tiriamo una bella bomba Oh Ammazzato qualcuno I miei supporti Qui non hanno fatto Un buon lavoro Non mi stavano Curando molto Peccato I miei supporti Mi avessero curato Beh abbiamo comunque Vinto la battaglia Però se i supporti Mi avessero curato Avremmo vinto ancora meglio Cioè io sarei rimasto Lì a fare un botto Di danni Abbiamo Jankrat Che ha fatto già Un bordello di danno Comunque Dove sono tutti? Oh bravo Merci Niente raga Mi serve un po' Una mano qui Perché è Perché è un po' Difficile Altrimenti Sigma La sta facendo Un ottimo lavoro Merci Attenta E niente Eh raga Qua Mancano Mancano Proprio le cure Secondo me Abbiamo Non so cosa stia facendo Ana Esattamente Ma Cioè serve anche qualcuno Che flanchi Per me Perché la sono messi Davvero molto bene Come posizione Merci Sta attenta Buono Ottimo No no Non sfoderare Nulla Tiriamo giù Ovviamente Lei Prima Dov'è Dov'è Il supporto Eccolo qui Buono Ok Non andiamo Troppo oltre Lì Attenti Prendiamo L'obiettivo Limentiamoci A prenderlo Ah Peccato Ho buttato Via la ultima Allora Allora hanno questi Due bei Tanconi Che Sono davvero Stronzi Eh Sono davvero Tosti Hanno Brigitte Brigitte Non è un tank Ovviamente Non possono avere Due tank Però Avevano Brigitte Armamenti Come si chiama Sigma Che faceva davvero tanto Se riesco ad arrivare a dare uno scudo O no Trappare Non riesco ad arrivare a dare uno scudo La Portiamo il carro avanti un po' Qua Altrimenti Forza carro Ah È arrivato Sigma A rompere le balle Raga Però io qui sarei da solo Non vorrei dire Cioè Sono sul carro E sono da solo Il mio team sta combattendo Non so bene chi E non so bene per quale motivo Lo sta combattendo Lontano dal carro Quando sono tutti qui loro Abbiamo gente che fa tanto danno Come Jankarat Oddio Fa tanto danno Mi sto facendo molto di più Vabbè ragazzi Però E raga niente Questo team è completamente andato Non riescono a curare Guardate Hanno il doppio delle cure loro Il doppio delle cure Io ho Mide danni in più Di il nostro danno Che non sta facendo nulla Con il Genji Non sta ritiramente Facendo nulla Io ogni volta Cerco di andare Qui davanti Ma Niente da fare E niente Niente Non ho Non ho gente che mi curi Guardate dove è andata Mercy Cioè Mercy è andata a sparare C'è il posto che Rimanere con il raggio Su di me Per curarmi È andata a sparare Mercy E vabbè niente Qua avete l'esempio Di gente che purtroppo Adoro Probabilmente non sa Giocarci O la prima volta Che ci gioca E non ha idea Di cosa stia facendo Niente Non ho Non ho Nessuno che mi cura Per me è impossibile Sopravvivere Guardate lì Protocolli energetici Calibrati E niente E niente qua Ci sto provando Ma È impossibile Cioè ci sparano Da qualsiasi direzione Potremmo Potremmo provare Overwatch Overwatch Pay to win Va bene Di Overwatch Si può dire tutto Tranne che sia Pay to win Un po' come League of Legends No Cioè davvero Puoi dire tutto Di quel gioco lì Tranne che sia Pay to win Qui ho ultato Nessuno mi ha seguito Oh fuori uno Fuori due Ma è un carro Perché non va avanti C'è questa Oh ragazzi Stavo per morire Contro Chiripo Contro Chiripo Stavo per morire Ah che sono tutti Dalla sopra Sparano E io continuo a fare Danno qui Buono Vendetta Bene Vendetta vera Non finirò in galera Non è morta Chiripo Mannaggia me C'è teletrasportata via Sicuro Buono Dove cacchio è andata Farah Può gentilmente morire No Continuavano a curarla C'era Chiripo Che continuava a curarla Questa è la forza Dei support ragazzi In questo gioco I support sono fondamentali Non tanto per Almeno Non in questo momento Non tanto per Quello che possono fare A livello di crowd control Come può essere Con su League of Legends Cioè per il crowd controller Potentissimo Bensì Proprio per le cure Cioè qui devi Spammare le cure Buono No Eh niente Ho provato a premere Maiuscolo Ma ce l'ho fatta Eh guarda lì Che danni Raga Aspettatevi un secondo Posso andare Come dei mostri Ogni volta Buono Buono Fuori uno Buono Fuori due Però la Lasciamola là Lasciamola là Sparare Vai Portiamo avanti Il carro Mentre ricarico Anche le mie abilità Eh sì Ma lasciamo la cura L'acchi Rico Tanto deve venire qua Adesso No No Non spaderare un Scaffio di niente Eh Ho provato Ma di nuovo Qui avevano ucciso Tutte Avevano Ultato Eh Soldato con la ultima E' arrivato E' in bot Via Mi sa che abbiamo perso E' andata Vabbè è andata così Io ho fatto Del mio meglio Ho fatto più danno Di tutti i nostri danni Ho mitigato 5.000 danni Con i miei scudi Ho fatto quello Che potevo Ragazzi Aspettatevi La partita Farah Che probabilmente Ulta Uccide tutti Vediamo eh No forse no Ah sì 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 Sta caricando la ultimate Qua Appena Appena carica La tira E uccide tutte Eh Questa Questa farah Ha fatto il macello Non ho fatto caso Quanti danni Ha fatto lei Ma ha fatto davvero Un macello Farah Ho raggiunto Il grado 14 Del pass Di non me ne frega nulla E andiamo a fare L'ultima partita Di questo video Con Zarya E abbiamo trovato La partita Andiamo di nuovo Con la nostra Bella Zarya Magari potremmo Cambiare la skin Che dite Cambiamo la skin E mettiamo Ehi Dov'è il mio modello Non posso più cambiarlo Una volta che lo scegli Non puoi più cambiarlo Aspetta Però se cambiassi Campione No Non posso più cambiare Modello Peccato Non lo sapevo Vabbè Useremo ancora la skin Tanto Ragazzi Parliamoci chiaro In Overwatch Le skin Essendo un FPS Non è che serva molto Ah Sono in una partita Già iniziata E loro stanno già vincendo Tra l'altro Va bene Eh buonanotte Moira Che ulta e cura tutti Facendo anche un bordello di danni Raga Facciamo anche questa partita Non la contiamo Tanto Vinceranno loro Molto probabilmente E andiamoci A cercare un'altra partita Giochiamocela questa qui Giusto per Provare un po' Il campione E divertirci un po' Però Boh Non so Il motivo di mettermi In una partita Praticamente Già finita Ah Widowmaker Sta uccidendo tutti Nel frattempo Ottimo Non sono riuscito a prenderla Peccato Dove attaccano da qua Eccoli lì Infamelli Minchia Mi hanno disintegrato Guardate quanto sono durato Boh Senza la barriera Mezzo secondo Ok Complimenti a loro Squadra annientata Ovviamente Buono 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 Ultimate Tirata molto bene E siamo riusciti a A respingere Però qua ragazzi Sta per toccare il punto Bravo Torna indietro Payload Torna indietro Appena arriveranno Dall'oscudo a lui Così si butterà dentro Vai E' trovato all'altro Accumulo energia Dobbiamo stare attenti Però perché Sta arrivando a qui sotto Siamo fregati Dobbiamo stare un po' Qui indietro Raga E infatti Guardatevi da dove arrivano Mi hanno messo Uno scudo a caso Da là C'è soldato Reaper è ultato Non è successo nulla Niente Speravo che lui Se andasse da sopra Infatti Ha trovato all'oscuro Continuare a sparare Con il soldato Non ha molto senso Tanto continuerà A rifullarsi Prima o poi Dov'è a venire Lui allo scoperta Ma Doc Si è incazzato Questo Si è incazzato Che gli ho annullato La ultimate Con la mia abilità Che ho annullato Il suo danno Si è incazzatissimo Era Eh buonanotte Qua ragazzi Squadra annientata Non ancora Ah no Mi stresco Di arrivare A dare una mano Velocemente Tanto tu blocchi I proiettili Con quello No Non il mio colpo Non il mio laserone Buono Buono Oh raga Forse riesco A far vincere Questo team Allora guarda Questa si è incazzata Ha provato il tutto Per tutto Deve morire Buono Quando qualcuno Arriva a provare Il tutto Sopertutto Deve morire Non può rimanere In vita In questo modo Lui 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 Tiriamolo giù Buono Vai Oh abbiamo vinto Ottimo raga Dai siamo arrivati In extremis E abbiamo fatto Vincere questa squadra Eh gg all Certo Senza di me Stavate perdendo Succando malissimo Altro che gg all Eh Shifty Qui alla fine Muori 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 Bravo Bella lì raga Siamo riusciti a far vincere Questa squadra Che era molto in difficoltà E andiamo a fare L'ultima vera partita Vera e propria Del video Con Zarya Partita trovata De speranza Andiamo di nuovo Con la nostra Zarya Però mettiamoci Una skin diversa Mettiamoci Mezzanotte Dai Andiamo con mezzanotte Tac F-society Abbandonato la partita Nuoc Si è unito Va bene Nuoc Dai inizia Dai 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 Ho ancora molto Da imparare 5 4 3 2 1 Ho fatto pure Il controllo La rovescia in chat Va bene Andiamo Andiamo Partita del robot Dobbiamo spingerlo Più avanti Degli avversari Zarya Comunque Un tank Molto Versatile Non eccelle Praticamente Niente Non fa Troppi danni Oddio Danni Non fa comunque Però non ne fa Nemmeno tantissimi Dai Reaper del cacchio Che buono M'hanno curato Grandi Vabbè Spostiamo il robot Un po' di cura lì Bravi Ottimo Gli hanno caricato Un sacco di scudi Vai vai Speratemi Caricatemi di scudi Infamelli Questo deve morire No Non possono rimanere In vita Questi Dove è andata Il 3S3 Trasportata via Infamella Raga C'avevi lusso Qui dietro Eh Siamo Va bene Tutto Però Devo ritirare Un attimo Non ho più I miei supporti Ho sbagliato strada Per la ritirata Non avevo più supporti Che mi curavano Comunque come vedete A livello di danni Sono lì Sono lì con gli altri Ho fatto molti danni Questo anzo È stato bravo Però Stanno morendo Tutte Quei sono i miei Che stanno arrivando Devo aspettarle Aspettiamoli Forza forza Ma perché Non li aspetti Ok buono Un'uccisione tripla Ha fatto tutto Genji Però Andiamo 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 Forza robot Veloce Portiamo un po' avanti Ora la mia ultima Deve essere Pronto ad usarla Aia Raga i supporti Dove sono? Dai Dai Ho appena sotto La ultimate Stavo per tirare Le mie bombe Lì Avevo fatto Un bordello di danno Perché erano due squishy È arrivato Reaper Premuto Q E ha vinto Eh Widowmaker Invece di Genji Boh Magari Riesci a fare qualcosa Ricco Che danni mi state facendo Scusatemi Perché ha questi danni? E dove sono i miei supporti? Mannaggia loro Perché muoiono sempre O comunque non ci sono Mentre i loro supporti Sono sempre in vita Vivi i vegeti Impossibili da ammazzare Eh Stanno vincendo loro Guardali Muoiono sempre tutti Eh ho capito che siamo in netto svantaggio Che vuoi farci? Anche questa ha fatto la cazzata Niente Potrà anche aver fatto la cazzata Ma Il mio supporto Continua a morire davanti a me Ma perché non sta dietro? Boh Gente che con Chirico Pensa di andare a fare danno Va bene Al posto di stare dietro Spammare pure Oh Cos'è questo lag? Ok Ok qua c'è Disso Catturati tutti E niente raga Con cui ci ho provato Ma di nuovo Erano sempre più Sempre più loro Sono Abbiamo Anzio Che è partito bene Poi Boh Il suo danno Si è un po' perso Nell'aria Abbiamo come sempre I tank che fanno Pi danni di tutti Dai Raga Stati i pali La dobbiamo ammazzare Quando fa così Loro devono morire Che non possono rimanere in vita Che non possono rimanere in vita così tanto Ole Siamo senza tank Senza healer Lei muore Ok Atom paga Atom E lui non se ne va da nessuna parte Buono Qualcuno ha ucciso il cecchino? Riuscite a curarmi Grazie Vai Ben bene Si unisce la partita Bene Continuiamo Continuiamo Portiamola indietro Sto coso Anche se Sarà difficile portarlo avanti Ulteriormente Guarda lì Ah che botta Che botta che mi ha tirato Qual era la sua E? Che botta Eh niente qua ragazzi È arrivata pure Sombra da dietro A finirmi E stanno tornando indietro di nuovo Là però c'è tutto il mio team praticamente Sono in quattro L'unico ad essere morto sono io Nuovamente Nuovo i support Che si fanno i cavoli loro Non so bene per quale motivo Non si mettano a curare il tank Che è la cosa più sbroccata di questo gioco Boh Ma vabbè Abbiamo Kiriko che Continua a voler fare danno Quando potrebbe curare tipo 10.000 Cioè è fortissima Kiriko a livello di cure Eh volevo mettere di lei E non ce l'ho fatta Ero troppo lontano Ok Mi deve treggiare Mi deve treggiare Eh? Ma dovrei essere un tankio Perché sto one shotato in questo modo? Non mi ha nemmeno preso Boh vabbè Non mi ha nemmeno preso con la E Mi ha one shotato con l'Asha Scusami Boh Vediamo eh Non penso che riesca a fare qualcosa Sinceramente Anche perché Bisognerebbe tirare giù Quei support E se no loro che mi hanno tirato giù ragazzi Buono Siamo senza healer Buono Nooo Sombra mi ha ammazzato Peccato Stavo facendo una buona azione Però guardate Continuo a guardare sempre Comunque i punteggi dei danni Nel nostro team Cioè guardate lì Ho mille più Ho più di mille danni Di un nostro danno Insomma Insomma E' Widowmaker E' quel tipo lì Gente che prende quei champion E non riesce a colpire mezza volta Che risultano praticamente inutili per il team Arrivo eh Dai Dai Buono Ottimo E là c'è Il cecchino Speravo di colpire con quella bomba La volante Sarebbe stato bello Come azione Ed ora bisogna portarla avanti Questa è l'ultima azione Che ci rimane Perché Se moriamo qui Poi non avremo più tempo Di portarla avanti Ulteriormente Eh Va bene Bravo Però parti ora Dai Su E' che questa ha fatto la cazzata Ottimo Attenti Attenti ai cecchini Eh Continuate a muovervi così Non vi becca il cecchino Adesso Boom E' il shot E muoio Dai 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 Il support dietro Safford Sono da tirar giù E niente Ci ho provato Ma mi sa che qua abbiamo perso Hanno ucciso tutto il mio team Pure essendo io davanti a tutti Amen E' andata così GDWP Abbiamo fatto l'azione eroica Nella scorsa partita E' riuscire a salvare una partita Praticamente persa Questa è una partita Relativamente combattuta L'azione migliore della partita Moria Per me è quando ho ultato anch'io Che abbiamo fatto Doppio Qui Sì sì Quando ho ultato anch'io Gli ho tenuti di tutti fermi E poi abbiamo ucciso anche Gli ultimi due qui Junker Queen E addio Bella Bella dai E' stata comunque una partita Stimolante Con Zarya Quindi Anche questo video Con Zarya Finisce qui Io ti ricordo di lasciare un bel mi piace Se il video ti è piaciuto Di commentare E di iscriverti al canale Per non perderti i prossimi caricamenti Da Grascial Sphere E' tutto Al prossimo video